ciao a tutti oggi sono andato a vedere Reggiana e Molese partita semplice e facile per la Reggiana vinto 5 a 2 di Molese d'altronde penultimo quindi non ci si aspettava grossa resistenza anche se poi come abbiamo visto con Italia Macedonia non c'è mai da stare tranquilli nel calcio comunque al primo minuto Andrea Righini segna un gol abbastanza bello su azione anzi dopo 50 secondi segna subito e lì la partita va in discesa anche se come diceva la Macedonia insegna non bisogna mai stare tranquilli e in effetti al 26esimo quando Padovana segna a rigore che nel mio modo di vedere non c'era però è anche vero che qualcuno che l'ha visto da più vicino mi ha confermato che poteva starci comunque uno a uno ecco lì incomincia a preoccuparti perché abbiamo visto quattro giorni fa tre giorni fa la disfatta dell'Italia non volevo certamente vedere anche oggi la disfatta della Reggiana ma il vantaggio dell'Emolese dura veramente poco perché Zamparo con un gran tiro sotto la traversa segna il 33esimo quindi la parità la teniamo la tengono per 7 minuti insomma fondamentalmente perché segna il 33esimo poi segna con Tessa su un cross un tiro che poi dopo prende una balonbella strana e frega quello che è il portiere che non riesce a arrivarci mi sembra di aver visto un tocco di mano ma comunque mi pare fosse involontario e nel secondo tempo la Reggiana tranquillamente si gode la partita si rilassa attacca tranquillamente da tutte le parti in effetti insomma se fosse finita 10 a 2 molto probabilmente nessuno avrebbe dovuto niente da ridire infatti poi segna due gol Rozzio e Rosafio e quindi la partita finisce 5 a 2 mi dispiace del gol di Molesi di Benedetti che insomma è stata decisamente una disattenzione importante poi alla fine il risultato della partita non sarebbe mai cambiata l'ottantottesimo quindi insomma di sicuro non è quello che rovina la partita però diciamo che in un eventuale discorso di differenza reti potrebbe valere anche quello perché proprio c'è stata una disattenzione al generale della difesa che hanno lasciato i giocatori del Limolese colpire tranquillamente in pace senza grossi problemi mancano ancora 3 partite domani sera gioca il Modena che ad oggi con una partita in meno ha 2 punti soli della Reggiana chiaramente dipenderà molto dall'Ancona noi la nostra parte l'abbiamo fatta adesso speriamo che la faccia l'Ancona che è sesto e potrebbe fare uno scherzo al Modena diventa molto difficile perché mancano ancora 3 partite però sperare e provarci fino alla fine credo che sia un dovere morale insomma però insomma la partita oggi è stata molto piacevole è molto importante anche il fatto che nel secondo tempo fondamentalmente si sono molto rilassati i giocatori della Reggiana e non hanno dovuto correre più di tanto anche perché Limolese era proprio in balia della Reggiana a livello tecnico e quindi credo che serva anche in questo momento tenere le energie fresche per tenere più energie possibili per le ultime 3 partite che saranno dure perché la temperatura si è alzata e quindi la fatica aumenterà sicuramente comunque a prescindere da questo bene così andiamo avanti speriamo che il Modena ci faccia dei regali insomma che ci lasci dei punti in per strada ciao a tutti Grazie a tutti.